Vincere, vincere, vincere! 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 Non mi ringrazio più domande sulle due parole d'arte. Non è appagionata però. Oggi è pomeriggio, ma in erdo, a Casano Giorgio, sono stata veramente bene. E questo, anche a Sdracca, non mi ringrazio, non mi ringrazio. Mamma mia, sì, questa Sdracca, ha veramente piaciuto il gruppo di tutte le ragazze, tutta la storia. Ma come anche tutto l'ambiente in corso, la società che ci ha sempre aiutato, dato una mano, ai tifosi, e tutti gli amici che sono venuti a... comunque aiutareci. Vincere! 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 Grazie. Vincere! Meghi, 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 Meghi!